Allora, bene, vediamo adesso la seconda parte della tavola 40, che riguarda la sonometria isometrica. Allora, rappresentiamo sempre il solido nella tavola 39, dove nella tavola 39 che vedete l'abbiamo rappresentato in proiezione ortogonale. E' sempre, diciamo così, due soliti semplici, che sarebbero un primo solito che rappresenterebbe schematicamente un edificio con due falde e un solito rettangolare che lo sovrasta nella parte centrale. E' lo stesso identico oggetto che abbiamo già rappresentato in assonometria cavaliera. Adesso lo rappresentiamo in assonometria isometrica. Di fatto non c'è niente di nuovo, è esattamente la stessa procedura che abbiamo seguito precedentemente. L'unica differenza è che, per convenzione che ci siamo imposti, che ci siamo dati, l'assonometria isometrica prevede appunto gli assi X e l'asse Y che sono inclinati di 30 gradi rispetto alla linea orizzontale. Questo significa che l'oggetto impianta, non manterrà gli stessi angoli, ma verrà deformato. Quindi il primo passaggio che dobbiamo fare, come abbiamo sempre fatto, è quello di rappresentare nel piano la vista del PO, eccola qui, della proiezione ortogonale, così come è, tenendo conto appunto di mantenere la distanza dall'asse X e dall'asse Y pari a 1. Eccolo qua, quindi 1 e 1. Dobbiamo procedere in parallelamento agli assi X, Y e Z. Ricordo che le misure, quello che si deforma sono soltanto gli angoli, le misure lungo l'asse X, lungo l'asse Y e lungo l'asse Z rimangono invariate, per cui l'oggetto sarà rappresentato in questo modo. Primo passaggio, comincieremo a riportare le altezze. Le altezze sono quelle che possiamo prendere dalla proiezione ortogonale. Eccole qui, quindi avremo l'altezza dell'edificio nella linea di gronda, si dice, e nella linea di colmo, cioè il punto alto, e l'altezza del solido sovrastante. Comunque iniziamo rappresentando, riportando le altezze, quindi saranno di 3 cm nei punti più bassi e di 4 nel punto più alto centrale. Ricordiamoci di riportare anche i 3 cm nel punto di intersezione tra i due solidi. Facciamo poi successivamente, tracciamo poi successivamente le altezze pari a 4,5 del solido sovrastante. Qui l'ho rappresentato con un altro colore, in modo da almeno possiamo capire bene le differenze tra i due soliti. Il passaggio successivo sarà quello di incominciare a unire i punti delle altezze. Unire le altezze, quindi uniamo le due falde nel punto iniziale e nel punto finale, quindi lasciamo il resto tutto invariato, poi successivamente le congiungiamo con le linee di colmo e le linee di gronda e chiudiamo anche il solido sovrastante. Ora, come dicevamo in precedenza, in realtà in questo modo la sonometria sarebbe di fatto completata. La cosa che manca è l'intersezione tra i due solidi. Il punto di intersezione è dato da questa linea, da questo spigolo, avanti e dietro. Ok? Allora, ci concentriamo un attimo su quello. Allora, portiamo da questo punto la parallela a questo lato, questo spigolo, che rappresenta il bordo della falda inclinato. Ecco, lo andiamo a riportare dal punto di intersezione. La stessa cosa facciamo nell'altro verso, quindi sia davanti che dietro. Come abbiamo visto anche la volta scorsa, in realtà questa intersezione finirà in questo punto, perché il solido è più piccolo. Quindi la situazione reale sarà questa. Quindi la linea inclinata, diciamo così, finisce insieme al solido e poi congiungeremo le due linee inclinate con questo spigolo qui. Adesso vediamo un attimo nella parte di intersezione che succede con gli spicoli. Allora, eccolo qua. Vediamo come ripassiamo, intanto ricordo, con la linea, con la mina F o HB, ripassiamo gli spigoli, tutti gli spigoli, tratteggiati quelli nascosti e continui gli spigoli in vista. Quindi questa sarà la situazione. Tracceremo con la F come spigoli in vista, sicuramente, la copertura di questo, diciamo, solido. Queste due linee di intersezione è questa e le due dietro, invece, saranno, diciamo così, tratteggiate. Diciamo, questa è l'unica parte su cui dobbiamo di fatto ragionare. Dopodiché completeremo il nostro edificio. Un'ulteriore considerazione, come la volta scorsa, la dobbiamo fare per questa linea di gronda, diciamo, di gronda, sì, diciamo così. Allora, nella prima parte, fino a qui, sarà uno spigolo. Nella parte che va da questo punto a quest'altro non sarà uno spigolo, perché sarà, diciamo così, all'interno del solito grande, quindi non esiste proprio come spigolo. La parte retrostante ridimenterà uno spigolo che sarà nascosto fino a questo punto e in vista fino all'altro, ok? Quindi, fatto questo, procediamo a ripassare tutte le altre linee. Le altre linee non presentano difficoltà particolari, quindi ecco, qui abbiamo la vista finale, in cui appunto possiamo vedere quali sono gli spigoli in vista e quali sono gli spigoli tratteggiati. Ragionando uno per uno, i spigoli tratteggiati sono quelli nascosti da delle facce. Quindi, ecco, saranno tutti questi spigoli che abbiamo già rappresentato, gli spigoli di base, le varie altezze, comprese quelle dell'intersezione tra uno spigolo e l'altro. Grazie per l'attenzione.